Il Web 2.0 ha rivoluzionato il modo di comunicare del sistema mondo e oggi sta rivoluzionando il modo di fare impresa. Come cambia la cultura di impresa nell'era del Web 2.0? Ne parliamo il 18 aprile 2012 nella sede di CNA Ravenna, che organizza il primo Barcamp in Italia sulla cultura di impresa 2.0. Cos'è un Barcamp? Una non conferenza collaborativa in cui tutti possono prendere la parola. Due regole d'oro, 5 minuti di tempo per ogni intervento e pertinenza col titolo del Barcamp. Perché un Barcamp CNA? Per favorire nuove relazioni, contaminazioni, idee, opportunità per fare impresa oggi. Ti aspettiamo come relatori o come spettatore? Informazioni e iscrizioni su www.ravenna.cna-barcamp.it Grazie per la visione! Grazie a tutti.